Buongiorno, oggi è giovedì 14 febbraio del 2013 e San Valentino è una festa degli innamorati, quindi auguri a tutti coloro che sono innamorati. In questi giorni stiamo facendo delle meditazioni sul Salmo 23 e in maniera particolare il mio pensiero andava a quello che era il versetto 5 del Salmo 23 dove dice tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, tu ungi il mio capo con olio e la mia coppa tra bocca. E questo per quanti non lo sanno, è una usanza, una tradizione del popolo ebraico che ancora oggi se visiti, se hai la grazia, la benedizione di visitare una famiglia di ortodossi o un rabbino giudeo, nel momento in cui tu entri a casa loro, la prima cosa che fanno è quella di onorarti. Loro ungono il tuo capo con olio e nel momento in cui ti metti a tavola loro riempiono subito il tuo bicchiere e lo riempiono a tal punto da farlo traboccare. Per tradizione loro devono fare in modo che una goccia del vino che stanno versando nel tuo bicchiere cada nella tavola, perché questo rappresenta la traboccanza, cioè la benedizione di Dio. Riesci a immaginare in questo giorno che Dio tratta così noi? Ed è forte pensare che il Salmo 23 parla di Dio come il nostro pastore, ma parla e descrive Dio in una forma diversa da quella che è il pastore e lo descrive come un padrone di casa che invita le persone a lui gradite e le onora. Le onora come? Nel momento in cui entrano a tavola e stanno per accostarsi alla sua mensa, lui unge il capo dei suoi ospiti, dei suoi graditissimi ospiti con olio e fa traboccare la loro coppa con del vino pregiato, prezioso, vino nuovo. Ora noi sappiamo che sia il vino che l'olio rappresentano e indicano la figura dello Spirito Santo e dell'opera dello Spirito Santo, ma la cosa più incredibile è andare a realizzare quello che dice proprio all'inizio del verso 5, dice tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, quindi sta parlando di un momento di grande comunione, di grande intimità proprio nel momento in cui c'è una battaglia, un momento in cui ci sono dei nemici. Ognuno di noi ha dei nemici, ognuno di noi sta vivendo delle battaglie, ognuno di noi vive delle circostanze per le quali lotta ogni singolo giorno, ognuno di noi sta affrontando delle situazioni a volte pesanti, a volte non si riesce a trovare la strada giusta per poterne uscire fuori, ma il versetto 5 del Salmo 23 ci incoraggia in una maniera straordinaria che nel momento della battaglia, nel momento della guerra, nel momento in cui stai fronteggiando i tuoi nemici, Dio ti invita ad una tavola, Dio apparecchia una mensa e Dio ti invita, proprio a riflettere sulla sua grandezza, a riflettere sulla sua maestà, a riflettere sulla sua grazia. Nel momento della guerra dove tu sei impegnato a fronteggiare il nemico, Dio ti sta dicendo vieni a mangiare, vieni a stare con me, vieni a spendere intimità con me, perché questo è quello che fa la differenza. Dice il Salmo 46, il versetto 10, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Nel momento della battaglia, nel momento della guerra, nel momento in cui affronti le circostanze avverse della tua vita, la cosa più difficile è fermarsi, la cosa più difficile è fidarsi di Dio, perché sei lì a combattere, ad andare avanti cercando con le tue forze e con le tue energie e con le tue capacità di vincere questa battaglia, ma è proprio in questo momento che Dio ti dice ora mentre stai affrontando i tuoi nemici vieni e mangia con me. Io apparecchio davanti a te una mensa proprio in presenza dei tuoi nemici. È come se Dio ci stesse dicendo tu vieni a mangiare e ai tuoi nemici ci penso io. Tu vieni a mangiare, io ti voglio onorare versando il mio olio e facendo traboccare la tua coppa. Lo Spirito Santo, l'opera dello Spirito Santo è nella tua vita, quindi spendi intimità con me, spendi intimità con lo Spirito Santo, spendi intimità comprendendo chi tu sei e quello che Lui vuole fare per te e Dio si occuperà dei tuoi nemici e delle situazioni che in questo momento stanno girando attorno a te, i nemici che cercano di distruggerti e che cercano di affossarti. Tu non fallirai, tu non affosserai, tu non perderai, perché l'Eterno è il tuo pastore e si prende cura di te anche quando le difficoltà della vita sono veramente e incredibilmente pesanti. Quindi ricevi l'olio sul tuo capo e lascia che il vino del Spirito Santo trabocchi dalla tua coppa, dalla tua vita e questo rappresenta sicuramente la gioia del Signore che è la tua forza. Dio ti benedica e buona giornata.